Eeeh, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi mostrerò come avere gemme su Brawl Stars Queste gemme Bene, io ne ho una perchè me le sono sprecate tutte Comunque, questo glitch funziona per davvero La prima cosa che dovete fare è andare sulle impostazioni Dovete tipo, crescere il gioco così Dopo, se siete connessi a Supercell ID, no Non ci sta Non dovete essere connessi a Supercell ID Dopodichè, facciamo pure il blocco di uscizio Eeeh, niente, dopo cambiamo lingua E mettiamo l'ultima lingua che vedete Bellissimo Vuoi cambiare lingua per davvero? Sì, bellissimo ragazzi Questa è veramente una lingua che crasha il gioco Quindi vedremo se funziona per davvero Oh mio Dio Dopodichè, dovete rotolare il brawler così Weee, weee E dopo Dovete Scrivere nella chat del club Benissimo Andate qua sui numeri E Facete hashtag Il simbolo dell'euro Dopo Scrivete il numero della gemma che volete Sono fino a 150 Benissimo Io Io ne voglio Ah ragazzi Se non lo sapete Quanto non lo volete Mettete il più Benissimo Così E Mandate Così Benissimo ragazzi Ok Dopodichè dovete Togliere le pagine Ah no no Scusate Dovete mettere per primo Dovete mettere per primo La lingua di nuovo italiana Qua Sì Benissimo Dopodichè Dopo il nostro italiano Dovete Quella la gemma Non ci sono Però infatti C'è l'ultima cosa Dovete Togliere le pagine Di Brawl Stars Togliere le pagine Anzi tutte Se volete Dovete Disinstallare Ok E ristallare di nuovo Ragazzi Ristallare di nuovo Ragazzi Scriviamo Brawl Stars Benissimo Ah vero Ragazzi Aspetta un attimo Aspettate un attimo Che io non l'ho cancellato Benissimo Ora Lo dovete Ristallare Ristallare Visto che ci sta Un bel po' Nel mio telefono Ditemi nei commenti Se vi è funzionato A voi Ciao Al prossimo video E Ciao A tutti D D